Il decreto che introduce l'obbligo di vaccino per gli over 50 prevede per tutti coloro, lavoratori e non, che non saranno in regola con l'obbligo vaccinale a partire dal 1 febbraio 2022 una sanzione di 100 euro, una tantum. La sanzione sarà erogata dall'Agenzia delle Entrate attraverso l'incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali. L'obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti di almeno 50 anni scatterà dal 15 febbraio 2022. Da quella data gli stessi saranno tenuti a possedere ed esibire il Green Pass rafforzato all'accesso al luogo di lavoro. Pertanto gli over 50 che ancora non si sono vaccinati dovranno effettuare la prima dose entro il 31 gennaio così da ottenere il Super Green Pass valido a partire dal 15 febbraio. La sanzione da 100 euro per gli over 50 che violino l'obbligo vaccinale partirà dal 1 febbraio 2022. Per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati soggetti all'obbligo è prevista inoltre una sanzione da 600 a 1500 euro nel caso accedano comunque ai luoghi di lavoro. Come già avviene per i lavoratori sprovvisti di Green Pass anche in questo caso i lavoratori ultra 50 anni non vaccinati saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinarie con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto allo stipendio. Per le persone che accedono senza Green Pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo è prevista invece una sanzione da 400 a 1000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green Pass se omette il controllo. Il nuovo decreto prevede l'obbligo di Green Pass almeno base a partire dal 20 gennaio per l'accesso alle attività che offrono servizi alla persona e dal 1 febbraio o altra data nel caso sia previsto dal DPCM attuattivo per gli uffici pubblici, poste, banche e attività commerciali. È chiaro che l'obbligo non riguarda coloro che per particolari condizioni cliniche non potranno essere vaccinati e possessori quindi di regolare il certificato di esenzione. L'infezione da SARS-CoV-19 determina inoltre il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile per la vaccinazione stessa così come previsto dalle circolari del Ministero della Salute.